Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un libro per bambini e ragazzi a partire da 12 anni di età, che racconta la drammatica esperienza di Lucia Annibali, che la sera del 16 aprile 2013 subisce un'aggressione terribile da parte di un uomo che le getta dell'acido sul viso. Il tema principale del libro è il superamento della violenza e la rinascita attraverso la resilienza e l'amore per se stessa. Il messaggio che trasmette è un inno alla forza interiore e alla capacità di trasformare il dolore in un'opportunità di crescita. La sua testimonianza diventa un simbolo di speranza per tutte le persone, specialmente le donne, vittime di abusi e violenze, offrendo l'esempio di una strada che, per quanto dolorosa, può portare alla felicità e alla libertà. Leggere questo libro è importante non solo per conoscere la storia di Lucia, ma per comprendere quanto sia fondamentale combattere la violenza di genere. Riconoscendo il valore dell'amore autentico e del rispetto per sé e per gli altri. La trama del libro Il futuro mi aspetta. Dal dolore alla speranza, una voce contro la violenza di genere, dell'avvocatessa Lucia Annibali, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli, è la seguente. L'ultimo ricordo della sua prima vita è il pianerottolo. Tutto è cominciato lì, la sera del 16 aprile del 2013, quando rientrando in casa Lucia trova un uomo. Ha il volto coperto e, prima che lei possa scappare, le getta dell'acido sul viso. Le ustioni sono gravissime, ma anche in quel terribile momento Lucia ha la lucidità per capire due cose. Nulla sarà più come prima e il mandante di questa atroce aggressione lei lo conosce bene. È l'uomo che non ha mai accettato la fine della loro relazione. Per Lucia è l'inizio di un percorso fatto di dolore, cure e innumerevoli interventi chirurgici per poter tornare a una vita normale. Ma questa strada lenta e faticosa le donerà anche una seconda vita e una nuova consapevolezza. In questo libro Lucia Annibali, insieme a Daniela Palombo, racconta a ragazze e ragazzi la sua storia. La storia di chi di fronte all'odio ha scelto ancora una volta l'amore. Ha oltre dieci anni di distanza dall'aggressione, il valore della sua testimonianza sta nella felicità raggiunta, un passo dopo l'altro. E nella possibilità che oggi abbiamo di affrontare e sconfiggere insieme la violenza sulle donne. Ogni bambina chiede di essere amata per come è. Tutte guardano al futuro riponendo fiducia nelle persone che incontreranno. Ognuna merita l'amore che non si compie attraverso il male. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.